Eccoci qua cari telespettatori, come avevo promesso siamo anche quest'oggi in diretta e continua il nostro appuntamento riprende, abbiamo avuto un paio di settimane prima delle lezioni di sospensione, appuntamento con Feder Contribuenti. Allora chiudiamo con quest'oggi un ciclo, poi ne riprenderemo anche altri perché effettivamente gli argomenti da trattare sono tantissimi, sono di grande interesse e suscitano anche delle vostre reazioni e leggiamo spesso le vostre mail. E affrontiamo nuovamente un tema importantissimo e anche molto delicato, quello della crisi delle aziende, sentitissima in tutto il paese per carità, però in modo particolare in una zona particolarmente operativa come quella del nord-est e del Veneto. Ma troviamo delle soluzioni, quindi a fronte di grosse difficoltà dobbiamo sempre trovare le scappatoie, dove ci possono essere, quali possono essere le vie migliori da intraprendere. Non farsi prendere dal panico, lo diciamo sempre, dall'angoscia, dal senso di abbandono, di solitudine, di scoramento, di tutto quello che può accompagnare la difficoltà perché ci sono dei professionisti che si sono preparati, ognuno con un proprio percorso individuale e che poi hanno deciso di dare un contributo tutti insieme dietro la capofila che è Feder Contribuenti, ognuno con i propri studi di lavoro professionali, le proprie organizzazioni, per dare una mano a chi ne ha bisogno. E come vedete ogni volta ci sono tanti diversi professionisti. Questo capitolo lo dedichiamo all'imprenditoria e alle modalità che possono essere escogitate. Vi presento i nostri esperti in studio. Alla mia destra Nicolò Moracchiello dell'Associazione Sostegno all'imprenditorialità Padova. Grazie di essere qui con noi. Alla mia sinistra ben ritornato Rocky Bulatovic, sviluppo per internazionalizzazione aziende per federe contribuenti. Grazie anche a lei e vedremo quali sono i mercati dove c'è una possibilità. Ben arrivato anche a Giuliano Pegoraro, fondatore di Venex, moneta complementare per il Veneto. Grazie. E vedremo di che cosa si tratta. Anche questa si può essere considerata una via d'uscita. Attendiamo, speriamo che possa raggiungerci in tempo perché ha un impegno, Diego Moschini, presidente di Primavera d'Italia, cofondatore di Feder Contribuenti. Però intanto, prima di incominciare, per vedere entrare nel merito, seguiamo il primo contributo. Siamo con Diego Moschini, segretario nazionale di Feder Contribuenti, per parlare del problema delle banche. Un problema molto sentito, in particolare in Veneto e in particolare per quanto riguarda il tessuto della media e piccola impresa. Allora, la situazione com'è in questo momento? Quali sono le cose che non fanno le banche? Le banche non stanno coadiuando certamente le piccole e medie imprese sul territorio, nel Triveneto in particolare, che è stato sempre locomotiva d'Italia, non lo stanno facendo in maniera assoluta. Abbiamo osservato che soltanto le piccole banche, le BCC, stanno continuando a operare sul territorio, ma le grandi banche non abbiamo ancora nessun segnale di forte ripresa. Però hanno ricevuto molti soldi. Da chi e per fare cosa? I soldi sono arrivati dalla BCE tramite Draghi, coadiuvati da Monti. Questi soldi sono arrivati in Italia all'1% di costo e sono stati impiegati dalle banche al 5% in acquisto di titoli. Quindi tutto fa pensare e presupporre che questa fosse una manovra salva Italia e non salva imprese. Invece è diventata una manovra salva banche? Ma sicuramente le banche con un 4-5% di lucro stanno facendo quello che potrebbe essere il loro risultato industriale di utile annuale. Bella questione. Questo mette in difficoltà tutto il sistema. Vogliamo incominciare? Oppure incomincia l'esperto di moneta? Chi di voi vuole dare? Ma sono curioso di sentire della moneta alternativa. Allora, se questa è la situazione, abbiamo i dati anche recentissimi di quest'oggi. Sta aumentando in modo esponenziale gli introiti derivati dall'usura. Sono delle cifre che in Italia fanno paura. Usura legata al fatto che le banche ristringono i freni, l'iproditore è preso con l'acqua alla gola, a volte dietro il ricatto, a volte in altre situazioni, comunque il ricatto del denaro è sempre pesantissimo, cede ad altre situazioni gravissime. Per evitare questo bisognerebbe che le banche si comportassero in modo diverso, bisognerebbe che il sistema monetario funzionasse in modo diverso. Beh sì, diciamo che il sistema monetario dovrebbe funzionare in modo diverso e in modo diverso dovrebbe essere anche articolato quello che è il ruolo della finanza in generale. La finanza che dovrebbe avere una funzione di propulsione e sviluppo dell'economia. In realtà negli ultimi anni abbiamo visto come la finanza sia stata più che altro dominata dall'andamento dei mercati finanziari che hanno distolto risorse da quello che è lo sviluppo dell'economia reale, producendo vantaggi più che altro a favore di pochi a beneficio del capitalismo e quindi direi che per affrontare, cercare di risolvere la grande crisi economico e sociale che stiamo attraversando è necessario un nuovo volto da parte della finanza ed è necessario, anche sono necessarie azioni a tutela di quello che è l'economia locale, in particolare noi stiamo parlando del Veneto, quindi dell'economia veneta. Molte risorse, diciamo, prodotte localmente, quindi nel territorio Veneto, sono state portate via dalla finanza, anche con operazioni finanziarie, mettendo le aziende venete in situazioni di grandi difficoltà. difficoltà da una parte perché non hanno più fondi per finanziare lo sviluppo dei loro prodotti e dei loro servizi e d'altro canto perché si trovano a dover fronteggiare una concorrenza proveniente dai prodotti esteri che sono a più basso costo. Quindi sappiamo tutti, insomma, qual è la situazione attuale, quindi che vede da una parte una forte crescita e perdita di posti di lavoro, diminuzione dei salari, erosione delle pensioni, diminuzione del fatturato delle piccole e medie imprese, aziende, piccoli esercizi commerciali, anche grandi, che chiudono, progressivo depauperamento della, diciamo, della popolazione, a fronte, peraltro, anche di, diciamo, una crescita spesso incontrollata del debito pubblico e di un crescente numero di famiglie e di persone anziane che non riescono più ad arrivare a fine mese. Ecco, noi, io faccio parte del gruppo promotore di Venex, che è praticamente uno sistema di moneta complementare che abbiamo lanciato nel dicembre dello scorso anno per promuovere lo sviluppo e lo scambio di beni e servizi all'interno del territorio veneto utilizzando questa moneta invece dell'euro. Cioè, come funzionerebbe questo sistema? Funziona così, allora, le aziende che aderiscono a un circuito, al circuito di moneta complementare Venex, Venex che è la sintesi delle parole Veneto and Exchange, sostanzialmente, le aziende che aderiscono a questo circuito si possono scambiare tra di loro beni e servizi anche senza avere euro. L'euro è che o uno è già nelle disponibilità delle aziende oppure lo devono richiedere alle banche. Abbiamo sentito prima, diciamo, Diego Moschini che ha parlato delle criticità dei credit crunch delle banche che invece di concedere finanziamenti alle piccole e medie imprese investono, fanno investimenti finanziari in titoli lucrando sullo spread e tutte queste cose. Ecco, allora, Venex, la moneta complementare, rappresenta una forma di liquidità, uno strumento di liquidità aggiuntivo alla liquidità che le imprese hanno o non hanno in euro e consente comunque di sviluppare, di fare operazioni, quindi senza disporre di euro, peraltro anche utilizzando tutta una modalità particolare che non prevede il pagamento di interessi, prevede comunque la concessione di affidamenti ma senza particolari garanzie e tutta una metodologia di valutazione del merito fiduciario imperniata non soltanto, diciamo, su quelle che sono le garanzie che possono essere adotte dalle aziende ma imperniata anche su una valorizzazione, su una considerazione di quella che è la progettualità degli imprenditori e delle imprese, quindi premiando anche, diciamo, le forme di ricerca e di sviluppo che sono molto necessarie, diciamo, per fare un salto di qualità nell'attuale situazione economico-finanziaria. Qualche riguarda la tassazione, perché molte volte sono le tasse, quello... No, no, diciamo che un'operazione è fatta in moneta complementare, da un punto di vista, diciamo, di registrazione contabile, viene emessa una regolare fattura in euro, solamente che poi, quindi con l'IVA, eccetera, eccetera, solamente che viene precisato nelle modalità di pagamento, che il pagamento è in tutto o in parte in moneta complementare. Allora, un'azienda che entra nel circuito, vende un suo prodotto a un'altra azienda, nell'ambito del circuito, emette una regolare fattura in euro, il pagamento, ipotizziamo, avviene il 60% in moneta complementare e il 40% in euro. Nel momento in cui si realizza lo scambio del bene, l'azienda che vende acquisisce un credito nei confronti del circuito, credito che l'azienda stessa può spendere acquisendo a sua volta, diciamo, un bene o un servizio presso un'altra azienda che fa parte del circuito. Chiarissima, un attimo solo, l'interrompo un attimo, abbiamo un'attesa, una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno Elena, sto chiedendo con Daniele. Sì, buongiorno, dica. La Pede Lago, provincia Treviso. Sì. Come vincere la crisi? Mi sono stato l'attimo sette dopo patto anni, no? A giorno sette. E ritornerò per rispetto di questa emittente la famiglia qua. La crisi? Ma chi ha legato la crisi delle famiglie? Io ho sentito le carte, caro Emiliano, Damiana. Allora, la crisi delle carte, i nostri potenti, sanno solo comandare e fare leggi, a discapita le famiglie. Non ciò che ha fatto per questi siti. Io ho sentito tutte le famiglie. E a presto. Arriverò, Bianco e Daniele, a presto. Va bene, grazie, grazie del suo contributo. Ringraziamo il telespettatore. Stava completando, quindi è un cambio merci che avviene. Ecco, un aspetto che mi piace sottolineare è questo, che una delle funzioni fondamentali della moneta complementare è quella di trattenere la ricchezza prodotta nel Veneto, se parliamo della moneta complementare, trattenere la ricchezza prodotta nel Veneto nell'ambito del territorio stesso. E quindi producendo aumento del potere d'acquisto e delle piccole e medie imprese che aderiscono al circuito e poi anche del benessere di tutta la popolazione del Veneto. Perché in questi giorni si sta molto parlando, da tempo anzi lo vediamo quotidianamente, che ci sono da una parte alcuni che dicono sì, va bene, sono a favore dell'euro, altri invece che sono totalmente contrari. La moneta complementare si inserisce in questo dibattito, non è contro l'euro, ma vuole affiancarsi all'euro, affiancarsi come? Qualificandosi come lo strumento di regolazione delle transazioni di beni e servizi all'interno del territorio Veneto. Ovviamente l'euro entra in circolazione quando passiamo, diciamo, dal territorio Veneto al territorio nazionale, dove diventa importante ovviamente che le transazioni si liquidano in euro e poi dal nazionale all'internazionale. Quindi può convivere benissimo con l'euro ed è uno strumento, diciamo, che serve proprio per trattenere le risorse prodotte all'interno del territorio della regione piuttosto che escano fuori dalla regione. E come fanno a uscire? Escono quando praticamente si creano le operazioni finanziarie. Perché? Perché la finanza spesso non utilizza le risorse che va a prelevare dal territorio per sostenere lo sviluppo di beni e servizi, quindi per rialimentare, diciamo, un ciclo produttivo di altre, diciamo, di produzione di altri beni e servizi, ma utilizza queste risorse per altre finalità, cioè per dare un vantaggio, diciamo, a coloro che detengono i capitali. Allora, l'obiettivo che noi dobbiamo avere è quello, in primis, di, per quanto possibile, ovviamente, di trattenere la ricchezza prodotta nel territorio, nel territorio stesso dove questa viene generata. Il secondo obiettivo molto importante è quello di far sì che questa ricchezza prodotta sia distribuita in modo più eco e solidale fra tutti gli eventi causa del territorio stesso, quindi cercando di eliminare quelle che sono, insomma, le situazioni di disagio, di criticità che conosciamo. Quello dovrebbe essere. Signor Brutovici, lei cosa ne pensa di questo? Tra l'altro lei ha anche un occhio rivolto anche verso altre realtà. Può essere interessante, può essere una scamotagina via d'uscita, le risulta che sia stato adottato anche in altre realtà con cui è entrato a contatto? Sicuramente è una forma da sperimentare. In Serbia operiamo in valuta europea, in euro. Tutte le transazioni vengono quantificate in euro per la stabilità di svalutazione della moneta locale e viene fatturato in moneta nazionale, in dinari. Perciò sicuramente possiamo dare anche... Ah, in dinari finisce un po' le stesse cose. Sì, noi possiamo dare anche un contributo forte a questa iniziativa per vedere realmente come funziona in uno stato sovrano al di fuori dalle leggi di comunità europea perché la Serbia non fa parte della comunità europea, extra c'è, e sicuramente possiamo dare un contributo a sperimentare questa cosa, quali sono i benefici per le imprese, per il Veneto e così via fino alle famiglie. Assolutamente. Dopo entriamo nel merito specifico della Serbia, della realtà e che cosa si può anche fare, che opportunità può dare. Però tornando a questo discorso, legandomi anche all'intervento dell'intervista Moschini, che cosa ne dice? Situazione banca e nuove opportunità. Questo è sicuramente un periodo dove c'è molta difficoltà delle imprese verso le banche, perché le banche possono in difficoltà loro, un po' sinceramente approfittano anche della buona fede con cui l'utente medio si è approcciato con la banca. Qualche volta succede che l'imprenditore stesso probabilmente non sceglie lo strumento di finanziamento adeguato a quella che invece è l'esigenza che deve andare a coprire. E questo è un problema che si può risolvere facendosi assistere da dei professionisti qualificati. Certamente questo è un periodo in cui le banche sono anche tartassate di richieste e di rimborsi per anatocismo, usura e se stesse. E, se non mi ricordo male, anche la Feder Contribuenti ha un servizio che fa queste verifiche qui. Sicuramente la tematica è abbastanza complessa. La moneta alternativa di cui si sta parlando può essere uno strumento con cui spezzare eventualmente questa spirale con cui effettivamente il credito non viene dato e allo stesso tempo in realtà viene dato dagli stessi imprenditori. Perché chiaramente se l'imprenditore non ha credito dalla banca l'imprenditore si fa fare credito dai fornitori con dinamiche che possiamo vedere come concordati, fallimenti e vi dicendo difficoltà di liquidità delle imprese e chiaramente poi viene a mancare quella che è la struttura stessa dell'impresa perché se non puoi più far fronte per causa insoluti a quelle che sono le tue obbligazioni i fornitori non si fidano più di te cominciano a chiederti i bonifici anticipati e tutte queste cose qui che sicuramente non aiutano lo sviluppo e il sostentamento delle imprese stesse. Quindi il problema oggettivamente è che le banche non fanno più le banche e le banche in realtà dovrebbero fare le banche perché loro hanno delle informazioni che l'imprenditore medio non ha quando va ad affidare il suo cliente. Le banche hanno le banche dati hanno dei dati storici hanno delle statistiche di comportamento che all'imprenditore medio non possono arrivare e spesso e volentieri anche quando si fanno delle analisi preliminari non si riesce a capire effettivamente se la controparte è solvibile o no. le banche con la scusa che hanno il veicolo di ti devo dare soldi hanno la possibilità di richiedere allo stesso imprenditore che devono affidare o allo stesso privato che devono affidare notizie, informazioni, certificazioni che altrimenti non si riuscirebbero ad avere. È evidente che per passare la crisi bisogna assolutamente che il sistema bancario riprenda a fare il sistema bancario. siamo in un circolo vizioso la moneta complementare io adesso la sento la prima volta dal collega ma mi pare che possa aiutare a spezzare questo circolo. Diciamo che si chiamava baratto una volta e che oggettivamente è solo impostare un'altra ragione di scambio e spostare chi può emettere questa moneta spostare questo potere ad un altro soggetto collegiale cioè tutti gli imprenditori che mettono servizi e prodotti. Chiaramente il potere di battere moneta è una cosa fondamentale in qualsiasi sistema economico e quindi... Però naturalmente non c'è quindi può essere un'alternativa. Allora andiamo subito in pubblicità poi torniamo con voi anche ad affrontare altri temi. Grazie.